Benvenuti nel canale YouTube che vi porterà nel magico mondo degli audiolibri. Qui troverete una vincente collezione di storie che vi faranno sognare, emozionare e vi terranno incollati alle cuffie. Sul mio canale, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, pubblicherò due capitoli che vi condurranno in avventure straordinarie, dalle avventure epiche ai thriller mozzafiato, dalla fantasia alla narrativa contemporanea. Non importa se siete alla ricerca di un'evasione dalla realtà o di una storia che vi tenga sulle spine fino all'ultima parola. Qui troverete esattamente ciò che cercate. E sai qual è il nostro mezzo di trasporto per queste incredibili esperienze? Sì, hai indovinato, i libri. I libri sono delle vere e proprie ali che ci permettono di volare in mondi fantastici e scoprire terre meravigliose. E sai una cosa? È impossibile non amare i libri. Sono un tesoro che custodisce emozioni, avventure e conoscenze. Se non sei ancora un appassionato di libri, non preoccuparti, perché sono qui per farti cambiare idea. Sono determinata a farti vivere incredibili avventure e mostrarti la magia che si cela tra le pagine di ogni genere e tipo di libro. Immagina di trovarti in luoghi mozzafiato, di esplorare terre fantastiche e stupende, o persino di ritrovarti in ambienti terrificanti. Ti prometto che non sarai mai solo in queste avventure letterarie, perché sarò al tuo fianco in ogni momento. Ecco un'idea per goderti appieno queste avventure. Siediti comodamente e metti un paio di cuffie. Io mi occuperò del resto. Attraverso le parole di personaggi famosi, ti trasporterò in mondi magici e ti farò vivere ogni emozione e avventura come se fossi lì di persona. Sembra fantastico, vero? E il bello è che ci vuole solo un attimo per iniziare questa incredibile esperienza insieme. Quindi, che ne dici? Non ci resta che partire. Ti aspetto sul mio canale YouTube, pronta a condividere con te la passione per i libri e a regalarti momenti indimenticabili. Sono sicura che ti divertirai e che insieme vivremo delle avventure straordinarie. Non perderti neanche un capitolo. Iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante avventura letteraria. Grazie per l'attenzione e ci vediamo presto sul mio canale YouTube.